Altro giro, altra corsa per la Sound of Thunder 1000 Il Polman, Fabrizio Perotti, 1-32-5 Al suo fianco, Michael Lamagni, 32-7 A chiudere la prima fila, Kelly In seconda fila, Donesana, Galante e Lobartolo E poi Renaudo, Bartolini, Palladino Fino a chiudere le 10 posizioni Con Lorenzo Vock, è il Cremona Circuit Il circuito, un circuito così bello e così elegante 3.700 metri di percorrenza Per divertirci, a tra poco con la Sound of Thunder 1000 Emanuele Lobartolo, una battuta prima di questa partenza Sei davanti perché è la posizione ottimale per ambire l'alto da podio Caldo, sarà dura, sarà impegnativa Sia a livello fisico che a livello di gomme Per cui bisogna usare anche un po' di intelligenza Oltre al fatto di partire bene Speriamo, facciamo le dita Grazie Massimiliano Palladino di ritorno con tanta aggressività Tutto nuovo? Speriamo che vada bene Speriamo che vada bene Non siamo messi male ma speriamo E il tuo rapporto con la pista di Cremona? Buono, buono Però adesso è buono, poi vediamo dopo Guarda il Bartolini in mezzo ai milloni da tanta potenza Tu con la tua artigianale punti ancora una volta sulla ciclistica e sulla tua esperienza Sì, dai, qui c'è il ritigno un po' lungo Faltiamo un po' Però dai, ci divertiamo Adesso vediamo come va la gara Bene, ciao Cristian Gipponi È stato un weekend un po' travagliato Ma sei pronto per questa gara Dove l'obiettivo è quello sicuramente di recuperare posizioni Esatto Speriamo di partire bene e di fare una bella gara Sempre in rimonta Grazie Paolo Cristini Non posso dire che il tuo obiettivo non possa esser che recuperare Assolutamente sì, ne abbiamo tanti davanti Oggi sarà molto caldo Adesso cerchiamo di darci da fare Grazie Lorenzo Vock, disturbiamo la tua concentrazione Sei pronto a dare battaglia? Ti aspettavi un partire così impegnativo? Sì Me l'aspettavo, però noi non saremo da meno Troveremo per tutta la gara Pensiamo un po' alla classifica Ma pensiamo anche qui davanti Un po' dammi fastidio Fabrizio Perotti è venuto a Cremona Con un obiettivo preciso in testa E parte dalla prima casella Ciao Bruno, sì dai Abbiamo sistemato la moto con un pochino di ritardo Rispetto ai piani Però mi sento abbastanza messo bene Quindi si può di farne il massimo Tutto pronto per l'inizio della gara Eccoli via partiti Perotti Lamagni e Echeli Accodati, appiedati tutti e tre Con un buono spunto da parte di Echeli Che prova ad andarsene con Lamagni Che cerca di inseguire Tanto le telecamere ridugiano subito Su Max Palladino 3.700 metri di percorrenza Allora ripetiamo il Cremona Circuit Per una Sound of Thunder 1000 Che si pronuncia combattuta Combattutissima 13 giri La percorrenza E il polme Nella Magni Eccoli lì che se ne stanno già Provando ad andare A piede libero Con i due scapestrati Con Echeli alle spalle Che cerca Un po' di rintuzzare In qualifica E' apparso abbastanza chiaro Il trend 32, 5, 32, 7 Per Otti la Magni E Cheli 34 Questo significa Che in qualche maniera E' particolarmente interessante La partenza di Vok Che dalla decima Si trova a quarto Grande spunto di Lorenzo Vok Con la sua bike resta cordoni Che si troverà A quanto dicevano Appunto Vok stesso E Cristini A dover battagliare Duellare Per poi La classifica di competizione Lo ripeto e lo ribadisco Il distacco E' molto importante Dene i primi due e gli altri E effettivamente Perotti Sta già cercando Di farsi largo Al primo giro La Magni Molto sfortunato All'appuntamento di Varano Ha avuto un inizio Bruttissimo E' rimasto impiantato Con la moto Si è trovato in ultima posizione Ha rimontato fino alla quinta Quest'oggi Concentratissimo Come concentrati Dovranno essere i piloti Da Renaudo A Bartolini A Palladino A Vok A Valsecchi Un po' tutti Quelli che si trovano Nelle posizioni di mezzo Tra poco Iniziamo già a farci un'idea Al Cremona Circuit Delle prime posizioni Le prime due sono sicuramente Perotti e la Magni Adesso andiamo via via A vedere anche Gli altri piloti Come si stanno incastrando Perché c'è una bella discrepanza Che ha avuto un grande spunto Renaudo Non buono lo Bartolo Che è veramente Arretrato A quello che riesco a vedere Con gli occhi Soprattutto vedo molti piloti Di fronte a sé Questo vuol dire Che non ha avuto Un grande spunto Lo Bartolo Che partiva dalla sesta Perotti e la Magni Intanto davanti Fanno Danno il ritmo Alle danze Con Palladino Che adesso Cercherà di salire su Max Palladino Lo sappiamo Lui è un gran bel pilota Parte da una posizione Molto concentrato Prima della gara E diceva Ho buone sensazioni Un buon feeling Col circuito Renaudo Intanto sono in terza posizione Bartolini Poi Echeli Vok Un po' risucchiato Nel vortice Ma grande Spunto di Renaudo Dalla settima posizione Si trova terzo in solitaria E bisogna capire Se quei due di davanti Fanno quel ritmo Sono praticamente Imprendibili per tutti E mi sembra che Il trend sia davvero quello Con Mi sembra che Perotti Abbia Quel piglio Quel fare Un po' più Sicuro di sé Un po' più deciso Un po' più Intrigante Da questo punto di vista Cristian Gipponi Inquadrato Partiva dalla dodicesima E Gipponi Che Non riesce Comunque a tenere Una posizione Rispetto al gruppetto Con tutti quanti gli altri Perotti Di Lamagni Reinaudo Che Continua ad avere Un buon ritmo E alle spalle Si vanno ad incastrare Poi tutti i piloti Con Bartolini Che è stato scavalcato Da Ecceli Con Ecceli Che sta cercando Di venire su Ecceli Che si trova in terza posizione E anche Donesana Che non riesce Anche lui Un po' impelagato In quel gruppone A districarsi E ma lo sapete La partenza È fondamentale E qualcuno di loro Non ha avuto Una grande partenza Lo Bartolo In primis Bartolini Cerca di seguire i piloti Lui che è sempre stato Il re della Sound of Thunder 1000 Ma quest'anno Sono tanti i piloti Sono belli forti Agguerriti E Bartolini Se vuole vincere La classifica di competizione Dovrà davvero Duellare fino all'ultimo Reinaudo Intanto Sale su Li stavo guardando tutti Con Bartolini Che va ad accompagnare Con Donesana Che si accoda E ha un certo tipo di abbrivio Tre giri su tredici Una gara molto lunga Non dovrebbero soffrire le gomme Parlando anche con i piloti Ci hanno detto Non dovremmo avere Abbiamo una particolare percezione Del fatto che le gomme Non debbano soffrire O andare in sofferenza Durante la gara Però chiaramente Ci avvaliamo Del beneficio del dubbio Con Cristini Che sta avvicinandosi E ha di fronte a sé Alberto Gini Vediamo se riesce a sfruttare Il gioco delle scie Per provare a scavalcarlo E per provare ad avvicinarsi A quello che il suo contendente diretto Vox cadetta Anche dello stesso Cristini Completa Bene il sorpasso Su Gini Cristini Si prende la posizione Quattro su tredici Perotti Lamagni Renaudo Che inizia Ad accusare un po' il colpo Rispetto ai piloti Che Lo seguono E che si stanno avvicinando In qualche maniera Anche perché siamo a quattro su tredici Anche perché mancano nove giri Anche perché la gara Lì è tutta da scrivere Tutta da decifrare Eccolo qua Renaudo E poi via via Tutti gli altri piloti Con Ecceli Un po' Con Vox Che si trova impelagato Con Cristini Che sta salendo su In maniera forte Dopo aver scavalcato Gini Eccolo qua Cristian Giponi È alla fine di quel gruppone Giponi E sta cercando Di risalire anche lui la china In qualche maniera Come può Quando siamo praticamente Adesso possiamo dirlo A un terzo di gara E la gara si sta districando Dinoccolando Su Dei parametri Abbastanza scritti Perotti la magni Renaudo Però Farei particolare E infatti Renaudo è stato Totalmente assorbito Dagli altri piloti E Bartolini guida Il gruppetto Dal quinto in su Anche se anche Bartolini Mi sembra che è Bello 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 Forzato dai chiedi Con Donesana Davanti Che ormai ha preso Renaudo E tra poco potrebbe avvenire Il sorpasso Mi sembra che Eccoli stia iniziando a forzare Un po' Il ritmo 5 su 13 intanto Con Perotti Che ha preso 7 decimi Nell'ultimo giro Sulla magni Che potrebbe iniziare a pensare Non tanto di accontentarsi Quanto Non ci arrivo a Perotti Perché è più forte E allora mi metto lì Tranquillo Mi tengo la seconda posizione Anche perché Ho perso già Diversi punti Nella prima gara Boccelli intanto Partiva dalla 17esima posizione Non ha avuto un grandissimo Abbrivio Un grandissimo spunto E soprattutto È stato un po' In difficoltà Per tutto il weekend Forzatamente Avviene il sorpasso Intanto Ai danni di Renaudo Che non è più in terza posizione Perotti invece Però è in prima Quello è sicuro La magni È in seconda E anche questa è un'altra certezza E via via poi tutti quanti Gli altri piloti Con Voc Che inizia a faticare Dopo che ha avuto Un super spunto Dalla decima Alla quarta posizione Lorenzo Voc Che Ripetiamo L'anno scorso Ha vinto la sua classifica Di competizione Quest'anno il salto È stato importante Ci ha raccontato Che Ha provato molto Però Chiaramente Le difficoltà Si sono palesate È un anno Dove lui aveva messo in preventivo Sarebbe stato un anno Di assestamento Con il suo team Bikers da Cordoli Che però gli sta offrendo Tutti i servizi Più importanti possibili Per poter Continuare A lottare Con chi gli compete Mentre è stato effettuato E sorpassa i danni di Renaudo Ed è che Lì Si sta avvicinando A veramente a lunghe vele Ghele Eh sì Ghele vele Cosa cacchio sto dicendo Non è possibile Si sta avvicinando In maniera abbastanza importante Alla quarta posizione Perotti Completa il quinto giro E diventa il sesto Tra poco Con uno scarto Un disavanzo Abbastanza importante Di 4 e mezzo Sulla Magni Poi la Magni a sua volta Un ottimo Distacco dagli altri Lo Bartolo Inquadrato Si è sicuramente avvicinato Al gruppone Ma quella falsa partenza Lo sta penalizzando Oltremodo E purtroppo Il Cremona circuito È questo Nonostante sia un circuito Lungo Sul quale si può Ci sono diversi punti Di sorpasso Contro il rettilineo È da sempre Foriero di grandi Sorpassi È successo un po' Di tutto In altre competizioni Penso alla Ressata 600 Penso alla 300 Dove Abbiamo assistito A sorpassi Contro sorpassi Con piloti Che dalla Prima posizione Poi si trovavano In terza Quarta Perché molto attaccati Nel gioco delle scie Però in questo caso C'è una discrepanza Molto importante Reinaudo Prova comunque A restare lì Attaccato a Donesana Sta salendo su E Cheli Stanno arrivando su Un po' tutti quanti I piloti In maniera Davvero Importante E Si sta formando Un gruppone Vedete Gipponi Che lo va a chiudere Con Boccelli Che sta Si è sbarazzato Un po' Di Cornia Ad esempio E di tutti quanti Gli altri piloti Tra cui anche Crosetti Che sta cercando Di prendersi Largo Per magari Chi lo sa Avvicinarsi A quell'altro gruppetto Perché comunque Non siamo praticamente Quasi nemmeno A metà gara Adesso forse sì Perché è il buon Perotti con la Magni Che Tra poco Ultimano Il sesto giro Vedremo Sette su tredici Ma questi due Stanno facendo Uno sport a parte E poi ci sono Tutti gli altri Correnauto Assorbito In quarta posizione Con Tutti I piccone Cheli Guardatelo qua In quadrato Che sta salendo Su fortissimo E ha preso I piloti Che lo precedono Io penso che Cheli Possa avere La facoltà Di puntare Al podio Perché Perché partiva In una posizione Importante In qualifica Ha avuto uno spunto Un abbrivio Veramente negativo In partenza Però può sicuramente Rientrare Con Vok Che si è detto Particolarmente soddisfatto Delle gomme Si è stato soddisfatto Anche di come era Bilanciata la moto In questo caso però Sta facendo un po' fatica In gara Ma lo sapeva Ne era consapevole Lorenzo Vok E la stessa cosa Si può dire Di Giampaolo Cristini Totalmente negativo Il sabato Ha detto Devo rimettere in piedi La moto Se voglio provare Ad avvicinarmi a Vok Il mio diretto Contendente Ce l'ha fatta In gara Ad avvicinarsi a Vok Adesso L'obiettivo è quello Di mantenere la posizione Perché poi ci sono Dei duelli Degli incastri Particolari Tra i vari piloti Che studiano E che colgono L'occasione Per Sfidare Il diretto Contendente Sulla base Della classifica Di competizione Ricordiamo che Qui abbiamo Open Stock Lobartolo Che ad esempio Lui si Poteva decisamente Avere una partenza Migliore Non ha avuto Una partenza Davvero Negativa Peccato per lui Però sta cercando Di risalire anche lui E lo sappiamo Che non molla mai Non demorde mai Un po' come Varano 8 su 13 Intanto Perotti la Magni E poi via via I piloti dietro E tra un po' Per me si può formare Un bel trenino Per la terza posizione Con Echeli Che ha preso Di forza Renaudo E tra poco Magari lo sorpassa Sì Eccolo qua Il sorpasso Di Echeli A Renaudo E adesso Echeli Forse però Renaudo Gli si è messo Di nuovo davanti Ad ogni modo E lì Attaccato Che sta Soffiando Franco Mollandosi Andare Siamo a 9 su 13 Perché in precedenza C'è stato Quello scivolone Che peccato Da parte di Donnesana Che stava facendo Una grandissima gara Cristini Voc Sta diventando una gara Clamorosa La loro Se l'erano detto Dobbiamo cercare Di stare uno davanti All'altro E in questo caso Cristini Non fa passare Voc Voc Non fa passare Cristini Si sono appiedati Accollati Uno all'altro Chi non si è accollato E chi Se ne sta andando via E lo abbiamo capito È Perotti Che adesso Ha veramente incrementato Il vantaggio Sulla Magni E non gliene frega niente Assolutamente Di Qualche problematicità Che potesse esserci O che potesse essere Scorta All'interno Del Circuito Renaudo Va largo E questa volta Echeli lo beffa E si prende Anche un bel distacco È stato un errore Da parte di Renaudo Che ha interpretato male Una curva E si è preso Di forza di peso La posizione Voc Voc Gli si è fermata La moto Praticamente Sta andando pianissimo Problemi Problemissimi Per Voc Che probabilmente È costretto a ritirarsi Sì sicuramente Si sta andando a Fermare Sulla ghiaia Che peccato Altra svolta Altro colpo di scena E qui può sorridere Chiaramente In maniera Non cattiva Cristini Perché riesce a guadagnare Punti preziosissimi In chiave Il campionato finale Marco Parra Inquadrato Anche qua Gipponi 10 su 13 Voc Si ritira In precedenza Dalla caduta Di Donesana C'è stato qualche colpo Di scena In mille Sound of thunder E vediamo Prima il largo Da parte di Renaudo Infilato dai Kelly Che Si è preso la posizione Che se ne sta Relativamente Andando via In maniera interessante Con Galante E poi via via Tutti gli altri piloti Che si stanno andando A accompagnare Cristini Adesso è da solo Totalmente Prima era in compagnia Di Voc E stava facendo Una bella fatica Per scavalcarlo Poi la moto di Voc Lo ha abbandonato E adesso È tutta un'altra gara E per Voc E si Buonanotte E per Cristini E per i piloti Che precedevano E che susseguivano Cristini 11 su 13 Perotti Lamagni Mamma mia Uno scarto davvero importante Lamagni Può anche girarsi In questo caso Ma Le considerazioni Che arrivano dal box Sono abbastanza chiare Stai tranquillo Vai piano Anche perché Perotto è una wild card E la gara è come se L'avessi vinta tu E allora Lamagni Chiaramente Non forzerà minimamente Alcuna scelta Galante Intanto Inquadrato Mentre davanti Renaudo è stato Sorpassato In precedenza Dal buon Davide Ecceli È stato un gran bel sorpasso Quello di Ecceli Complice anche un largo Da parte Di Renaudo Però bisogna sfruttare Le inerzie Anche all'interno Di una gara E Ecceli però Si era impiantato lì E stava facendo capire Stava facendo sentire Quello che era La sua forza La sua vemenza Il suo rientro Da questo punto di vista Al buon Lorenzo Renaudo Intanto Perotti Che tra poco Si troverà sul contro Rettilineo E potrebbe tra poco Andare Trovarsi vicino All'ultima azione Dell'undicesimo giro Per entrare nel dodicesimo Per avvicinarsi A quella che è Una vittoria importante Per lui In preparazione Di altre competizioni Ma dietro In fervora La sfida Con Bartolini Che è stato risucchiato Dai piloti Che vanno un po' Dalla quinta Alla settima posizione Bartolini Non è in difficoltà Però Non sta avendo Quelle che sono sempre state Le sue performance Tra Varano E anche Qualche Lui a Varano E' sempre stato un po' Il re Di Varano 12-13 Perotti E' scappato Ormai lo sappiamo Stiamo commentando All'inizio della gara Alle spalle Un buon Buonissimo Maicon Lamagni E poi via via Tutti quanti altri piloti Da E' che lì Che si è preso La terza posizione Reynaldo Galanti E poi via via Tutti quanti gli altri Li vediamo Passare Scorgere Con una certa praticità Perotti Che qui Qualche anno fa Si è resa autore Di una gara Meravigliosa Con Di buon Luca Salvadori Poi Si dovette arrendere Perotti Dalla seconda posizione Ma fu Uno spettacolo Incredibile Quello che Misero su Questi due piloti Perotti Quest'oggi Non ha bisogno Di granché Difficoltà Reynaldo scavalcato Che da Galanti Allora Dessa attenzione Perché la gara Cambia Ulteriormente Reynaldo Sembra non avercene più Sembra aver Esaurito Quella che è stata Una progressione Una cavalcata Interessantissima Durante la competizione E che lo ha reso Davvero partecipe Di una super Gara Fino ad ora Ora Renaldo Strovacquinto Partiva dalla settima Posizione Ricordiamo La caduta Di Donesana Ricordiamo L'abbandono Da parte Di Voc Della propria moto Che si è Via via Accompagnata Sulla ghiaia E adesso Bisognerà Indugiare Anche sulla Problematicità Che ha avuto La moto Di Lorenzo Voc Per rimetterla In piedi Per Magione Per rimettere In piedi Quello che è Un campionato Nel quale Voc Aveva fatto Affidamento Già Delle difficoltà Che avrebbe avuto Forse Particolari Difficoltà Nonostante Avesse avuto Un particolar Feeling Con questo Circuito Last lap Lo leggiamo Con un Perotti Sempre In solitaria Che ha comandato Le telecamere Che duggiano Su Davide Echeli Che si è preso La terza posizione Eccolo qua Massimiliano Boccelli Massimo Boccelli Che ha È stato autore Di un'ottima gara Un po' come Max Palladino Nelle retrovie Che si è preso Via via Diverse Si è fatto largo Spadroneggiando Cercando di andare A divincolarsi Con altri piloti Eccolo Echeli Eccoli via via I piloti che passano Con Renaudo In quinta posizione Che ha avuto Un ottimo spunto Un ottimo breve Via in fase iniziale E poi Crosetti Eccolo qui Che sta andando ad ultimare Quello che è Il suo dodicesimo giro Prima dell'ultimo E poi Perotti Che davanti È stata una cavalcata Solitaria E forse al quarto giro C'è stata davvero Una discrepanza Che poi non ha più permesso A nessuno Bartolini davvero Un po' in difficoltà Walter In questa tappa Quella del Cremona Circuit Gipponi Inquadrato E tra poco Perotti Che sta andando ad ultimare Il contro rettilineo Potrebbe Scrivere E a scrivere Il suo nome Per quanto riguarda L'avventura finale Eccolo qua Super Fabrizio Perotti Vince Manina allargata Esulta E si gira Chi deve esultare Anche Michael Lamagni Autore di un'ottima gara Seconda posizione Se l'abbiamo imparato A conoscere un po' Non è soddisfatto Ma tant'è Questa era la gara Che doveva fare Questa è stata Effettivamente La sua gara Tra poco Arriverà anche Davide Ecceli In terza posizione Eccolo Che spunta Davide Ecceli Anche lui Dovrà essere Moderatamente soddisfatto Per la gara Che ha fatto E poi via via Tutti gli altri piloti Mentre C'è stata una bella bagarre Là dietro Si sono un po' alternati I vari piloti Con Cristini Che è salito su fortissimo Lo vediamo Passare per tutti quanti altri piloti Bartolini Vince Fabrizio Perotti Alle spalle Michael Lamagni Terzo Davide Ecceli Hanno completamente confermato Quello che era stata la qualifica I primi tre Sono proprio loro Perotti Lamagni Ecceli Grazie Per la Sound of Thunder 1000 A risentirci In quel di Magione Ciao Ciao Ciao